ola ragazzuoli entrata fa parte della famiglia vita mozzo gruppi telegramma fissati nel primo commento ola ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video su vita mozza ragazzuoli giuporto un nuovo outfit per halloween 2023 essendo che è uscita la nuova maschera di halloween proprio giovedì scorso era ovvio che vita mozza doveva portarvi il nuovo outfit con la nuova maschera guardate qua che spettacolo ovviamente verranno già portati altri outfit per halloween 2023 e ce ne saranno tantissimi altri perciò attivate la campanellina e mi raccomando su tutte le notifiche iniziamo subito ovviamente da requisiti sessione di inviti qualche soldino e poi ci dobbiamo recare in un negozio qualsiasi sulla mappa allora ragazzuoli altro requisito qua dobbiamo avere i joggers neri che sono facilissimi ovviamente da avere basta guardare sul canale vi lascio in descrizione come avere i joggers neri partiamo subito dalle scarpe allora io direi di mettere delle sneakers rosse non posso cambiare io le scarpe su questo outfit perché se no ovviamente mi si sbagga però vi faccio vedere quale sneakers potete mettere o utilizzate le tron rosse e nere come ce l'ho io oppure utilizzate le sneakers appunto rosse e nere ok oppure soltanto rosse oppure soltanto nere in realtà stanno benissimo soltanto nere perché poi gli andiamo ad abbinare i guanti neri quindi o rosse e nere oppure soltanto nere quindi andiamo su parti superiori invece adesso andiamo su giacche demon e andiamo a mettere le fiamme rosse è ovvio che la maschera devil deve avere la giacca con le fiamme perché se no che demone è quindi fiamme rosse come giacche demon poi dopodiché ragazzuoli andiamo a mettere anche le maniche arrotolate e andiamo a mettere una semplice maglia maniche arrotolate rossa in modo da abbinare perfettamente ovviamente con le fiamme a questo punto ragazzuoli una volta che abbiamo messo la parte superiore ci possiamo spostare appunto sulla parte degli accessori all'accessorio andiamo a mettere ovviamente dei guanti neri quindi mi raccomando abbinate sempre le scarpe con i guanti molto importante quindi corazzati neri ok quindi sui guanti ormai ci siamo a questo punto ragazzuoli andiamo a salvare in uno slot qualsiasi perché non andremo a utilizzare a fare g eccetera eccetera e dopodiché ce ne andiamo a negozio di maschere ma prima di andare a negozio di maschere ragazzuoli passiamo da un barbiere qualsiasi perché perché ovviamente vi faccio anche mettere oltre la pittura facciale anche le lenti a contatto qualcuno di voi ancora non ce l'avrà però potete fare lo stesso l'outfit quindi andiamo al barbiere qualsiasi barbiere sulla mappa vi faccio vedere quale lenti a contatto perché importantissimo ragazzuoli c'è anche nel delici di halloween escono le lenti a contatto non vi dimenticate e sono bellissime ok quindi andiamo sui lenti a contatto e andiamo a mettere appunto le lenti a contatto demone perché ci sta benissimo ovviamente con la maschera dopodiché pitture facciali andiamo a mettere il teschio questo qua perché perché ovviamente il collo me lo farà tutto quanto nero quindi riesco a fare meglio l'outfit a questo punto ragazzuoli ce ne andiamo verso il negozio di maschere una volta arrivati al negozio di maschere dovremo andare a comprare la maschera nuova e soprattutto glitchare questo fantastico cappello da cowboy partiamo dal cappello andiamo su cappelli copricapo quindi andiamo su cappelli cowboy e andiamo a mettere il cappello cowboy rosso a questo punto ragazzuoli lo andiamo ad acquistare quindi anche a indossare dopodiché ce ne andiamo su maschere e andiamo a prendere le halloween retro a questo punto ragazzuoli quando andate ad acquistare la maschera è ovvio che il cappello sparirà ma vi ho fatto fare il cappello prima proprio per questo motivo noi dobbiamo andare al cannocchiale con la maschera solo indossata quindi una volta che siamo al cannocchiale ragazzuoli andiamo verso il cannocchiale premiamo freccia destra touchpad premuto dopodiché ce ne andiamo su touchpad stile andiamo ovviamente su testa e andiamo a prendere il cappello da cowboy rosso facciamo cerchio 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 e ci allontaniamo ovviamente dal cannocchiale come vedete si glicerà la maschera con il cappello da cowboy rosso e quindi abbiamo finito il nostro fantastico outfit di halloween con la maschera devil a questo punto possiamo andare al negozio di maschera e salvare il nostro outfit perciò ragazzuoli saremo di nuovo pronti per poter ovviamente fare un nuovo outfit guardate qua che fantastico mi raccomando ricordatevi che farò un evento per halloween quindi fate tutti quanti gli outfit mi raccomando campanella attiva ragazzuoli piaciuto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella